Buongiorno amici, buon 2 giugno a tutti, aspettate che giro un attimo la web, come vedete finalmente possiamo andare al mare dopo tutte le costruzioni, anche se non c'è molta gente, ma io sono venuta presto con mio marito, quello che vedete laggiù è il ciceo, poi adesso dal cellulare non si vede ma si vedono le isole contine benissimo perché il cielo è terzo, fa un po' freschetto quindi non c'è la boschia dell'afa, l'afa è puritissima, guardate, allora volevo dirvi che si sta un po' ferma con i video, mi sto rilassando un attimo, abbiate pazienza, adesso ne farò un altro, vediamo, certo durante l'estate un po' di pausa me la prendo, però comunque sul canale trovate tantissimi video di pane, pizza e dolci, quindi continuate a guardare, andate sulla playlist e spaziate, cercate quello che volete, adesso non riesco a girare la web verso di me, però non fa niente, è meglio non mi vedete, vi fira anche vento, ho i capelli, ma il vento, sto camminando con i piedi, avrei dovuto mettere le ciabatte, non c'è nessuno, lo vedete, quindi non c'è pericolo di prendere virus, la mercatina sarà sempre dietro, ma venendo la mattina presto, anche se è un giorno di festa, più tardi sicuramente arriverà un po' di gente, ma noi ci mandiamo e se lo rischiamo, poi comunque hanno messo gli ombrelloni distanziatissimi, vedete vedere l'acqua, guardate che è bello, bene amici, naturalmente vi ringrazio per, ringrazio tutti perché il canale sta aumentando, mi sembra che siamo già arrivati, abbiamo superato 18 minuti, adesso dovete guardare, quindi non è il massimo, ma per me è tanto, è di assuro, per me è proprio tanto, ok, ci vediamo prestissimo, un'altra bella occhiata al mare, continuo la mia camminata, mio marito è l'azzurro e l'azzurro fondo, un ombrellone rosso, non so se riesci a vedere, bene, spero che anche voi stiate passando una piacevole giornata, un abbraccio, ciao ciao!